Dopo l'accordo sulla proroga dei contratti a tempo determinato in escadenza, vertice, alla Comune di Favara, l'amministrazione al tavolo con i sindacati, Irene Milisenda. Al Comune di Favara, dopo l'annunciata sospensione dei 270 lavoratori con contratto a tempo determinato, a causa dell'ancora mancata copertura finanziaria da parte della Regione, i lavoratori precari mantengono e proseguono lo stato di agitazione, nonostante sia intervenuta una soluzione tampone tramite un'intesa firmata tra l'amministrazione comunale, i sindacati e le RSO. In attesa dei decreti di finanziamento della Regione siciliana, i lavoratori continueranno a fornire il loro servizio e i contratti precari in scadenza sono stati prorogati di un mese, fino alla conclusione di ottobre. Nel frattempo la sindaca Anna Alba, dopo la lettera di allarme ordine pubblico e sociale inviata al prefetto Nicola Diomede e dopo la riunione con i lavoratori, si recaerà a Palermo per trovare una soluzione definitiva al problema. Abbiamo coinvolto le parti sindacali, abbiamo paventato la preoccupazione di una ipotetica sospensione che per fortuna abbiamo scongiurato attraverso una proroga meramente giuridica dei contratti, garantendo quindi ai lavoratori una continuità lavorativa che potesse permettere appunto di poter continuare a svolgere le normali funzioni senza interrompere il pubblico servizio che avrebbe creato un danno a tutta la comunità. Noi abbiamo più volte segnalato che la nostra intenzione è tutelare prima di tutto i lavoratori, perché sono padri e madri di famiglia, che rappresentano una forza lavoro per il nostro comune. Abbiamo chiesto alla Regione di avere la contezza certa di quelle che sono le quote che devono essere versate ai comuni perché già sono fortemente in ritardo e quindi di avere tutti quei fondi necessari per poter arrivare fino al 31-12 di quest'anno. Ci siamo sentiti con la Lantieri questa settimana, ci siamo sentiti con i funzionari che sono stati molto disponibili, domani io dovrò essere a Palermo e spero finalmente possa arrivare un dato certo, che è quello appunto del trasferimento che spetta al comune di Favara. Quindi il mio auspicio è che nelle prossime settimane si arrivi quindi ad avere una visione molto più chiara di quello che sarà il futuro che viene riservato ai nostri lavoratori. Nella mattinata di oggi i lavoratori si sono radunati nell'aula consigliere del comune di Favara insieme alle forze sindacali per discutere del problema e soprattutto comprendere fino a che punto si è disposta a tollerare tale stato di disagio. Questa mattina stiamo per procedere con l'assemblea del personale, ci siamo lasciati alla fine della settimana scorsa con la firma dell'accordo che garantiva il proseguimento dell'attività dei lavoratori e così è, però stamattina ci siamo riservati appunto di comprendere quali sono le ragioni di tutti i lavoratori perché ovviamente c'è il problema della copertura finanziaria e quindi dobbiamo interpellare tutti quanti per capire quali sono le azioni di lotta, se ce ne sono oppure aspettare la fine del mese appuntante. Inoltre i lavoratori sono parzialmente disposti ad attendere qualche giorno di ritardo nel pagamento degli stipendi purché vengano rispettati gli accordi presi e qualcuno propone anche di andare a manifestare direttamente a Palermo finché il problema si è recepito da tutti. Tutti i colleghi sono presenti, vedremo cosa fare, vedremo le cose da adottare, ecco, con molta serenità e molta tranquillità anche perché siamo in una situazione molto, molto, molto critica. Come diceva l'onorevole Panepinto, se l'amministrazione nel 31 dicembre non adotta una delibera di giunta dove c'è la prosecuzione per l'anno 2018 ecco saremo tutti fuori perché la legge Madi è proprio uno schifo totale. Speriamo bene, speriamo che qualcosa riesca a muoversi anche perché siamo in mano ai politici e quando dico siamo in mano ai politici siamo in mano ai politici tutti in generale senza escluderne nessuno, senza togliere nessuno dal calderone. E veramente io mi augurerei che nel vedere le mani dei nostri politici siano sporchi di Costituzione e non sporchi del mancato licenziamento dei 270 precari del Comune di Favara.